salve a tutti gente benvenuti in un nuovo video oggi vi aggiornerò sulle novità per la fase 2 finalmente da domani 18 maggio si comincia a ripartire ho preso qualche appunto e adesso possiamo partire dal 18 maggio cadono tutte le limitazioni agli spostamenti nella stessa regione sarà possibile vedere non solo i congiunti ma anche gli amici rimane il divieto di assembramento riprendono le funzioni religiose riaprono le attività economiche produttive e sociali che si possono svolgere rispettando i contenuti dei protocolli e delle linee guida predisposte per il singolo settore potranno riaprire ristoranti bar negozi spiagge palestre sempre nel rispetto della distanza di sicurezza e delle linee guida in caso di mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida si va incontro alla sospensione dell'attività economica fino al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di violazione delle regole si incorre in una sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro se la violazione viene reiterata si raddoppia la sanzione spero che questo video vi sia stato utile in ogni caso vabbè basterebbe guardare il telegiornale spero comunque che continuate a seguirmi io cercherò di aggiornarvi a modo mio io prendo gli appunti qua io scrivo e poi ve lo dico almeno per le cose più importanti quelle che ritengo più importanti e rispettiamo le regole soprattutto non tanto per le sanzioni ma per non rischiare nuovi contagi ok ciao ciao